Qualche settimana fa il premio per Copp Liguria Startup e oggi l'inaugurazione di questa nuova sede, insomma state bruciando le tappe? Sì, stiamo cercando di correre il più possibile perché ci crediamo tantissimo e Lega Copp e il bando, la vittoria, ci hanno dato energia e quindi sì, cerchiamo di correre. Oggi apriamo e da qui abbiamo presentato un po' le attività che faremo a brevissimo e speriamo di poterle ampliare sempre di più. Oggi nella sua presentazione ha ricordato che non ci sono due bambini uguali. Sì, assolutamente, una delle cose che rende efficace la terapia che noi applichiamo è che è proprio personalizzata e creata sul bambino perché soprattutto per quanto riguarda lo spettro autistico la parola è un grosso cappello che racchiude però centinaia di realtà diverse e o si crea un programma strutturato su quella realtà o l'efficacia chiaramente diminuisce. Ad aprile si parte con gli incontri con i genitori e poi anche la novità particolare dei centri estivi. Sì, noi partiamo con dei workshop educativi per genitori in modo da aiutarli a gestire meglio le situazioni problematiche ma anche a favorire l'apprendimento dei figli in quanto col giusto metodo la nostra terapia viene poi portata anche a casa e i centri estivi per sperimentare un po' di America in Italia nel senso che noi li prendiamo dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio e strutturiamo un programma che prevede momenti terapeutici e momenti di lavoro sulle autonomie per esempio del pranzo, per esempio le autonomie personali, l'autonomia in esterna perché facciamo anche delle uscite e quindi l'orientamento nello spazio. Questo è quello che fanno in America nella normalità ma che in Italia è un po' difficile da poter fare nella continuità ma lo facciamo a spot e quindi abbiamo creato questa cosa. Avete capito bene come funziona una cooperativa? Più o meno, questa forse è la parte più difficile nel senso che la parte terapeutica ci viene molto bene e la cooperativa ci stiamo lavorando ma direi di sì grazie anche al grosso supporto che Lega Coppa offre sotto tutti i punti di vista e quindi ci stanno aiutando e ci stanno guidando.